Il plank è l'esercizio base per allenare la muscolatura stabilizzatrice del core o nucleo centrale del corpo che comprende la colonna vertebrale, il bacino e la parte prossimale degli arti inferiori. Stimola quindi tutti i muscoli che concorrono a mantenere stabile la posizione assunta, in particolare la muscolatura addominale ed i flessori dell'anca. Ci si posiziona a terra proni, con i gomiti in appoggio, le braccia flesse a 90 gradi rispetto al busto e le gambe distese semidivaricate. L'esecuzione del plank consiste nel mantenere la posizione del corpo in asse attraverso una contrazione isometrica dei muscoli coinvolti. bisogna prestare particolare attenzione ai compensi che si possono verificare a livello del rachide e dell'anca, specialmente nei soggetti che non possiedono un adeguato condizionamento della muscolatura stabilizzatrice. La difficoltà dell'esercizio è determinata dal grado di stabilità. Mantenere le gambe unite riduce la stabilità e richiede quindi un intervento muscolare maggiore. Allo stesso modo, distendere le braccia rende più difficoltoso l'esercizio. Al contrario, appoggiarsi sui gomiti e divaricare le gambe aumenta la stabilità semplificando l'esercizio. Per aumentare notevolmente l'intensità è possibile sollevare una gamba, un braccio oppure contemporaneamente gamba e braccio opposto. Utilizzare degli strumenti propriocettivi da tenere sotto le braccia e o sotto i piedi permette di ottenere un ulteriore incremento della difficoltà. La variante laterale chiamata side plank interessa maggiormente i muscoli che abducono l'anca e flettono il tronco verso il lato in appoggio e gli adduttori dell'anca opposta. A terra su un fianco, con il gomito e la parte laterale del piede in appoggio, si mantengono in assi i segmenti corporei attraverso una contrazione isometrica dei muscoli coinvolti. Per incrementare il grado di difficoltà è possibile distendere il braccio d'appoggio oppure introdurre movimenti oscillatori o di adduzione sul piano frontale del braccio libero. Anche in questo caso, l'utilizzo di attrezzi propriocettivi rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà.